Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Teleitalia. Vediamo dei sondaggi B di media sulle intenzioni di voto all'8 di luglio del 2020 nelle regioni italiane tra coalizioni. In Italia il centrodestra ha il 47%, il centrosinistra ha il 33,3%, il Movimento 5 Stelle ha il 15%, la sinistra ha il 2,1%. Il dato interessante è che se sommiamo il centrosinistra più con il Movimento 5 Stelle, quindi il 33,3 più il 15, abbiamo un centrosinistra al 48,3, cioè 1,3 punti superiori al centrodestra in B di media. Bene, poi se gli mettiamo anche la sinistra, che ovviamente questi non sono alleati, però l'area di sinistra secondo B di media raggiungerebbe il 50,4%. Ma andiamo a vedere, partiamo dalla Val d'Aosta. In Val d'Aosta il centrodestra è al 41%, mentre il centrosinistra è al 26,7%, i 5 Stelle sono all'8,2% e la sinistra è al 2%. In Piemonte il centrodestra è al 49,5%, il centrosinistra al 35,4%, il Movimento 5 Stelle al 10,9% e la sinistra all'1,8%. Adesso vediamo tutte le regioni, poi vediamo quante regioni ha il centrodestra e quante regioni il centrosinistra. Passiamo in Liguria. In Liguria il centrodestra ha il 45,1%, il centrosinistra ha il 36,4%, mentre il Movimento 5 Stelle ha il 13,5% e la sinistra ha il 2,6%. In Liguria il centrodestra arriva al 54,7%, mentre il centrosinistra arriva al 33,9%, il Movimento 5 Stelle ha il 7,7% e la sinistra all'1,6%. Passiamo al Trentino Alto Adige, il centrodestra ha il 35,3%, il centrosinistra il 35,5%, il Movimento 5 Stelle il 5,8%, la sinistra l'1,6%. Nel Veneto abbiamo il centrodestra al 59,5%, centrosinistra al 29,1%, il Movimento 5 Stelle al 7,7% e l'1,2% la sinistra. In Friuli Venezia Giulia abbiamo il 53,5% del centrodestra, il 33,4% del centrosinistra, l'8,2% del Movimento 5 Stelle, l'1,9% abbiamo la sinistra. In Emilia Romagna abbiamo il 41,1% del centrodestra, il 43,9% del centrosinistra, il 10,6% del Movimento 5 Stelle e il 2,2% della sinistra. Passiamo in Toscana, il centrodestra avrebbe il 38,8%, il centrosinistra il 45,5%, il Movimento 5 Stelle il 10% e la sinistra il 3,1%. In Umbria abbiamo il centrodestra al 47,8%, il centrosinistra al 35%, il Movimento 5 Stelle al 12% e la sinistra al 2,5%. Nelle Marche abbiamo il 46,3% al centrodestra, il 33,5% al centrosinistra, il 15,6% al Movimento 5 Stelle, il 2% la sinistra. Nel Lazio abbiamo il centrodestra al 45,8%, il centrosinistra al 34,6%, il Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle al 14,9% e il 2,6% la sinistra. In Abruzzo abbiamo il 49,7% del centrodestra, il 26,4% il centrosinistra, il 19,2% il Movimento 5 Stelle e il 2,3% la sinistra. In Molise abbiamo il 44,6% al centrodestra, il 23,9% al centrosinistra, il 24,8% al Movimento 5 Stelle e il 2,6% alla sinistra. In Campania abbiamo il 38,1% al centrodestra, il 28,7% al centrosinistra, il 28,8% al Movimento 5 Stelle e il 2,4% alla sinistra. In Puglia abbiamo il 43,9% al centrodestra, il 29% al centrosinistra, il 22,5% al Movimento 5 Stelle e il 2,5% alla sinistra. In Basilicata abbiamo il 38,9% al centrodestra, il 30,4% al centrosinistra, il 24,9% al Movimento 5 Stelle e il 3,1% al sinistra. In Calabria abbiamo il 44,8% al centrodestra, il 27,3% al centrosinistra, il 22,8% al Movimento 5 Stelle e il 2,6% alla sinistra. In Sicilia abbiamo il centrodestra al 44,8%, il centrosinistra al 24,6%, il 27% al Movimento 5 Stelle e l'1,7% al sinistra. In Sardegna abbiamo il 40,4% al centrodestra, il 33,1% al centrosinistra, il 21,7% al Movimento 5 Stelle e il 2,5% alla sinistra. Allora facciamo delle valutazioni. La sinistra, proprio sinistra, non vince in nessuna regione ma neanche lontanamente. Il Movimento 5 Stelle non vince in nessuna regione, però dobbiamo dire che nelle regioni del sud è più forte. Guardate caso nelle regioni dove c'è meno lavoro, è più alta la disoccupazione ed è più alto il numero di persone che ricevono il reddito di cittadinanza. Quindi capite perché il reddito di cittadinanza non viene assolutamente toccato da Gualtieri e dal governo, perché è un'arma elettorale enorme, nel senso che se togliete il reddito di cittadinanza dal Movimento 5 Stelle potrebbe anche quasi sparire. La regione con più votanti del Movimento 5 Stelle è la Campania, terra natale di Gigino Di Maio, l'uomo che sussurra al virus. 28,8% in Campania il Movimento 5 Stelle, seguito dalla Sicilia con il 27% e poi abbiamo circa il 25% Basilicata e Mosilise, sono le regioni più colpite dalla mancanza di lavoro e questo non è assolutamente un caso. Se guardiamo il centro-sinistra andiamo a vedere in quali regioni vince. Il centro-sinistra vincerebbe, allora, primo, Trentino-Alto Adige, 35,5 contro 35,3. Poi abbiamo in Emilia-Romagna 43,9 contro 41,1. In Toscana 45,5 contro 38,8. E poi andiamo a vedere se vince da altre parti. No, tre regioni, tre regioni, adesso ce lo scriviamo, tre regioni al centro-sinistra e quindi le altre 18 al centro-destra. Naturalmente cambia se nelle coalizioni c'è anche il Movimento 5 Stelle, ma questo lo vediamo in un altro sondaggio successivo a questo, a chi piace seguire percentuali, sondaggi sulle intenzioni di voto. A me particolarmente piace i sondaggi, è una mia fissazione. Io, va bene, vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche nella pagina di Facebook Tele Italia dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.